Beccata a Napoli dai carabinieri, una banda criminale dedita i furti d'auto di lusso, circa 50 e colpi messi a segno. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura Partenopea, i militari della stazione di Chiaia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di sette persone, di cui una sottoposta all'obbligo di firma. Tutte gravemente indiziate di associazione finalizzata al furto e alla ricettazione di veicoli. Gli indagati, tutti con precedenti penali e residenti nell'area vesuviana, avrebbero messo a segno tra l'aprile e il dicembre del 2018 una serie innumerevole di furti di autovetture tra Napoli e provincia e nel territorio dell'agronocerino sarnese. Tutto sarebbe partito dopo il furto di un veicolo di grossa cilindrata sulla via Riviera di Chiaia di Napoli e l'individuazione da parte dei militari della targa della vettura. Ritrovata dai carabinieri anche tutta la strumentazione utilizzata per i colpi, sequestrati chiavi vergini con cui sostituire le originali, telecomandi, jammer e dissuasori per i sistemi di allarme e di rivelevazione GPS. I militari hanno ricostruito il modus operandi del gruppo criminale, che aveva dei ruoli ben definiti. Prima venivano individuate in strada le vetture parcheggiate da rubare. Una volta sul posto veniva forzato il meccanismo di accensione del veicolo. Messa in moto l'auto con un complice alla guida si allontanava, scortato da altri e diretto a uno dei capannoni individuati precedentemente.